Allora, 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 19 minuti dopo le 8, ancora buongiorno a voi, a Pierpaolo Zaccai, Italia Garantista, a Vincenza Trentinella, di nuovo buongiorno. 342 4151406, ripeto, 342 4151406 è il nostro servizio di messaggeria, è il canale che vi permette di interagire con noi. Signora Trentinella, qualcuno ha insinuato che lei in Turchia abbia fotografato la prima ragazza turca incontrata per strada. Beh, no, non è così, mi sono recata in Turchia su precise indicazioni, sapevo cosa avrei trovato, come l'avrei trovato, dove avrei trovato Angela e chi la detiene. Quindi smettiamola di dire che mi sono andata a fare una vacanza perché non è la verità, non corrisponde al vero. Qui l'indagine dei Ross ha rivelato anche che il soggetto che deterrebbe Angela non ha figli. Ai Ross hanno mostrato un'altra persona che non corrisponde alla mia dettagliata descrizione, né tantomeno ai miei dati, proprio per depistare l'inchiesta. Per di più hanno fornito, hanno fatto perquisire una roulotte e io in una roulotte non ci sono mai stata, bensì sono stata in un edificio e quando sono andati i Ross la polizia locale gli ha detto che era in fase di ristrutturazione. Insomma è stata creata una messa in scena vera e propria. Ovviamente essendo la Turchia un posto fuori dalla comunità europea i Ross non potevano fare più di tanto, proprio in funzione di una diversa giurisdizione. Per non parlare del fatto che adesso ho saputo che fanno istruzionismo per farli ritornare. Quindi ci sono un po' di problemi, anche perché non potrebbero sostenere di nuovo il fatto di presentare una persona piuttosto che un'altra. Ovviamente non sono andata sul luogo da sola, eravamo in quattro, io e altre tre persone, quindi se io sono un mitomani... Le chiedo scusa, queste tre persone hanno una professione specifica dal punto di vista istituzionale? No, 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 cittadini come lei. Cittadini, una persona che parlava bene l'inglese e altri due signori... Mi perdoni, parentesi, sempre per chi ascolta sono curiosità legittime. Lei poi ha trovato tre persone che sono venute con lei. Sono partite dall'Italia con me. Lei gli ha detto, io ho saputo che... No, 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 dobbiamo andare a fare, devo andare a fare un lavoro, mi accompagnate, voi vi fate una vacanza. Avrà detto a queste persone qual era il tipo... Andavo a trovare una ragazza, una ragazza, certo non l'ho specificato perché sapevo di andare in un posto pericoloso da un personaggio che è tutto un programma, quindi ho solo detto fate come vi dico e vediamo cosa succede. E' andato tutto bene, fortunatamente, perché erano tutti e tre preparati. Per chi dice che io sono un mitomane, allora sappia, lo dico qui in esclusiva alla radio, che i mitomani sono quattro. Non sono solo io. Certo per quello che stai dicendoti. Qualcuno ha anche detto che lei avrebbe insinuato una responsabilità della famiglia, insomma questo si è anche largamente percepito. Però adesso è ospite Vincenza qui da noi e puoi dire quello che vuoi riguardo questa mia curiosità. Io colgo l'occasione per chiarire una volta per tutte quanto ho espresso la frase, Angela è stata scelta, voluta e pagata, dicevo chiaramente, è comprensibile da tutti, proprio da tutti, che chi ha operato il rapimento lo ha fatto su commissione e chi ha riscosso il denaro è l'organizzazione malavitosa che ha compiuto il crimine. Chi poi vuole aggiungerci del proprio può farlo. Io, le mie parole sono quelle che ho detto adesso. Punto. In Italia purtroppo i rapimenti di minori sono tantissimi. Ieri il dato 978 minori nei primi dieci mesi del 2011 scompa. O 978 o 79, comunque una cifra altissima, molto alta. Sì, è una rete gestita da persone senza scrupoli. Le stesse parallelamente operano anche sul traffico degli organi. Ti chiedo scusa, piano piano, perché voi sono tante le domande, te le faccio anche piano piano, tanto fino alle 9 dobbiamo stare. Hai parlato di criminalità organizzata? Dipende come la vogliamo chiamare, possiamo chiamare criminalità organizzata. Io la chiamo in un solo modo, mafia. Ma di più, penso, perché anzi... Punto. Con la sostanziale differenza che non essendoci stati pentiti, le istituzioni non sono riusciti a ricostruire i movimenti. Punto. Fino ad ora. Ora non lo so. Però proprio perché la famiglia dice io ci tengo a specific... Quindi la famiglia è strana a cui c'è la famiglia... Io non ho mai detto, né posso dire, perché non è vero, non corrisponde al vero, che i genitori abbiano preso soldi o c'entrano in qualche modo. Se le persone che sentono si fanno dei film... No, 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 il nostro pubblico è talmente attento... Certo, le persone che hanno preso Angela stavano lì... Un conto è cinque minuti al telefono, un conto è un'ora qui in studio, allora... Le persone che hanno preso Angela, che hanno preso i soldi, hanno fatto la commissione, non è che sono persone che vengono dalla Germania, sono persone che sono lì a Bicquenze e Napoli. Questo è il senso, ma non ho mai detto che la famiglia c'entra qualcosa. Allora, se noi intendiamo per famiglia madre, padre e le due sorelle di Angela, è un'idea più estesa di parentesi. E la gente che si fa proprie... No, no, la gente se glielo spiegiamo non si fa nessun film, tu escludi padre e madre e le due sorelle. Io ho detto... Aspetta, scusa, per familiari sono i nonni, gli zii, le cucine... Io non ho parlato di familiari, io ho detto soltanto che chi ha preso Angela e ha fatto la consegna sono persone del luogo, punto. Questo so e questo ho detto, non ho mai detto che se c'entra uno c'entra un altro. Allora, sulla famiglia questo è. Per quanto riguarda il fascicolo aperto, sulle sue disposizioni mi sembra che qualcuno abbia segnato l'equivoco della chiusura di un altro fascicolo. Ci spieghi bene perché poi... Sì, qualcuno sull'equivoco ci ha giocato in effetti. Comunque, chiariamo anche questa cosa qua. Riguardo l'inchiesta in Turchia, il documento a cui si fa riferimento in un sito internet è l'esito negativo del sopralluogo dei Ross. E qui abbiamo già parlato del fatto che sono andati e non hanno trovato. L'altro, il fascicolo chiuso, è relativo alle indagini fatte su di me. Le indagini sono state chiuse, ma sono riferite alla querela che mi è stata fatta dalla famiglia. Riguardo invece il fascicolo della DDA che tutti vorrebbero archiviato, al momento, ad oggi, non c'è da parte del magistrato un provvedimento di archiviazione che è rappresentato da un decreto. Questo decreto non c'è, perché le indagini vanno avanti. Ovviamente, perché le indagini vanno avanti? Ti chiedo scusa, passaggio fondamentale, è uno dei passaggi fondamentali. Sì. Non è stato chiuso niente, le indagini proseguono, giusto? Le indagini che riguardano le mie dichiarazioni alla DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, al momento sono aperte. Aperte. Non c'è decreto di archiviazione, quindi il fascicolo è aperto. E le indagini vanno avanti. Perché le indagini vanno avanti? Per il semplice motivo che, avendo la Turchia sostituito il soggetto con un altro, è stato anche dichiarato che la persona in questione non abbia figli. Questo proprio per che cosa? Per impedire che ad Angela, fotografata e ritrovata, non si potesse fare l'esame del DNA. Esame che va fatto, questa ragazza va ritrovata, questa ragazza è Angela. E la prova che è Angela è proprio la messa in scena che hanno fatti i turchi per la sostituzione di persona. Mi perdoni, perdonami Vincenzo. Qui Paolo mi sembra che entrano in campo anche poteri forti, istituzionali, diplomazie. Questa persona turca è protettissima. La polizia locale ha collaborato affinché si mettesse in atto questa messa in scena. Adesso fanno istruzionismo affinché i Ross ritornino di nuovo sul luogo. Quindi c'è tutta una questione gravissima di mezzo. Non pensiamo che questo rapimento di minori sia una cosa fatta così come se giocassimo ai dati. Qui è tutta una cosa messa d'opera d'arte. Noi sfondi una porta aperta, sappiamo che le organizzazioni si muovono. Questi sono precisi in tutto e per tutto. Se qualcuno parla di Cosco, ex funzionario dell'FBI, siamo io e Andrea Pallini in Italia. Per cui non è che ne parlo gli altri. D'accordo, io però ripeto, tu ci dai l'opportunità di capire alcune cose e io queste cose le devo anche responsabilmente condividere con chi ci ascolta cercando anche attraverso i messaggi che stanno arrivando al 342-4151-406 di interpretare questi messaggi e fare delle domande e comunque riscontrarli e suffragarli insieme a te. Perché poi Paolo, adesso escludiamo Vincenza così prende fiato. Perché questo turco ha preso una bambina napoletana? Perché dal punto di vista dei tratti somati, la fisiognomica sembra una bambina turca? Allora qualcuno dice perché non sono andati a Trebisonda invece di venire a Napoli e di creare una cosa ancora più pericolosa? Io questo perché lo vedo dal mio punto di vista molto relativo. Le persone si domandano del perché, però bisogna partire da un presupposto diverso. Se esiste il fatto, guardiamo il fatto, immaginiamo l'esistenza del fatto. Il perché poi è un'altra cosa. Posso fare un esempio. L'impero romano è caduto. Tutti abbiamo consapevolezza della caduta dell'impero romano. Rispetto alla caduta dell'impero romano ci sono 210 perché. Montesquieu diceva che l'impero romano è caduto perché si è esteso troppo nei confini, non riusciva più a controllare i confini. Uomini illustri spiegano il fenomeno con modalità diverse. L'unica consapevolezza e certezza è l'esistenza del fatto. L'impero romano è caduto. Quindi io, più che arrivare al perché, vorrei parlare attorno alla dimensione che costituisce il fatto in se stesso. Immaginiamo che sia vero quello che dice Vincenza Trentinella. Io, ovviamente, non sono un testimone oculare. Mi riferisco a questo racconto. E sulla base di questo racconto, sulla base della conoscenza che ho fatto con Vincenza Trentinella, penso che ci siano degli elementi di credibilità. Questa è una mia ipotesi. Il problema è legato nel rinvenimento dell'Arma. È legato a impedimenti di carattere oggettivo che sono determinati dal diritto internazionale, che stabilisce dei confini, che non ha consentito ai nostri reparti dei carabinieri di andare a buon fine, malgrado alte professionalità che abbiamo nell'ambito dei carabinieri. Sappiamo benissimo che abbiamo alte professionalità nell'Arma dei Carabinieri. Però il diritto internazionale è uno strumento più forte, che è a posto dei confini, dei paletti e degli impedimenti. Il fenomeno è legato all'esistenza della sottrazione di minori in modo occulto. È un fenomeno che conta 800 casi, 900 casi l'anno. Si parla di un complessivo di 9.000 bambini scomparsi in Italia. In Puglia pure è molto elevato. Lì c'è un aspetto bidirezionale. Dalla Puglia vanno verso l'Albania, dall'Albania verso la Puglia c'è uno scambio. Per motivi perché. Arriviamo al perché. Arriviamo a un perché rispetto al fatto. Il perché è legato a un certo tipo di criminalità. Il traffico di organi, la pedofilia, pedopornografia, infiltrazioni delle sette sataniche, infiltrazioni di ambienti occulti che le persone non vedono nel loro quotidiano, ma che esistono e che agiscono all'interno della nostra società. Noi ci fermiamo quando sono le 8.31, 342-4151-406 e il servizio di messaggeria leva che vi permette di interagire con noi, con i nostri ospiti che sono per Paolo Zaccai, Italia Garantista e oggi soprattutto Vincenza Trentinella. A dopo.